Una volta un professore andò da un maestro zen e gli chiese di spiegargli il significato della parola zen. Il maestro tranquillamente iniziò a versare del tè in una tazza. La tazza era piena ma continuò a versare. Il professore impazientito ha chiesto al maestro perché continui a versare anche quando la tazza è piena. Vuoi comprendere il significato della parola zen ma come questa tazza la tua mente è piena disse il maestro. Suuota la tua mente da preconcetti prima perché solo se la tua mente è vuota allora è pronta a ricevere. Allora il professore in quel momento capì che non era ancora pronto e se ne andò. Siamo tutti pieni di preconcetti anche involontariamente stiamo sempre a giudicare ma questo è sbagliato la nostra mente deve essere vuota e dovremmo prendere ogni evento ogni parola ogni sentimento per quello che è. Mantieni una mente vuota e il tuo cuore sarà sempre pieno.